Siamo ritornati, in tutti i sensi, mancarvi! Siccome lui ancora non è arrivato, noi adesso gli faremo credere che non abbiamo il suo portacolto Voi comunque siete tutti pazzi, siete tutti... Cioè, se segna il portiere al 95esimo inrovesciata, io mi sento male Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio del format che tanto amate Vale a dire, è quello in cui vi porto in telecronaca con me Ma è un format che amo anch'io, sono sincero, perché mi piace mostrarvi il dietro le quinte sempre in modo diverso Tant'è vero che in questo episodio qui, rispetto al passato, a parte che ci sono più giorni Sei giorni in cui è successo naturalmente di tutto, tante partite commentate, qualche live fatto Anche i soliti momenti divertenti e alcune novità Quindi direi che, insomma, il materiale per divertirci in questo video c'è Prima di partire però vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti in uscita E soprattutto di visitare la descrizione Dove vi lascio molti link utili e social utili Come Instagram, fondamentale per rimanere più in contatto con me E la piattaforma Viola, dove spesso mi trovate in live Anche stasera stessa per raccontarvi la Champions League Detto questo però, torniamo a noi E partiamo con il racconto Che, come vi dicevo, si svolge praticamente su due weekend differenti Il primo è quello di Pasqua, per intenderci Io ero salito il sabato per fare una telecronaca del campionato primavera E due live poi pomeridiano e serale Ma sarei tornato giù la domenica di Pasqua E chiaramente sarei rimasto giù anche a Pasquetta Anche perché io, insomma, nella mia collaborazione con Sport Italia Non lavoro tendenzialmente durante la settimana ma il weekend Che succede? Che mi stavo prendendo un caffè con Milone Il quale, il lunedì di Pasquetta, avrebbe dovuto commentare Io il planning l'avevo già visto Midi-Land-Bronbi Prima giornata play-off scudetto in Super League Sapete quanto io ami il campionato danese? Però, insomma, era lunedì Era Pasquetta Non ci ho minimamente pensato a chiedere la telecronaca a Milo Ci ha pensato lui Che se n'è uscito mentre ci prendevamo un caffè Dicendomi Fè, ma perché non la fai te quella del danese? Che lo conosci anche meglio di me il campionato Dato Milo, è un po' complicato Cioè io domani torno a Roma, insomma Dai, dai, che io devo fare anche l'argentino Domino, non mi tentare Perché se tu mi tenti io poi... Cioè, è così andata effettivamente Ho detto, ok, tra un'ora ti faccio sapere Faccio un paio di chiamate Ho chiamato Zlatan Convincendolo in un secondo Perché siamo innamorati entrambi Del campionato danese e di quella partita lì Quindi, io sono effettivamente tornato a Roma la domenica Mi sono fatto Pasqua con i miei E poi, il lunedì di Pasquetta È successo questo Buongiorno ragazzi Siamo ritornati In tutti i sensi Mi mancavi Mi mancavi Dottore, come stai? Bene, 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 bene Sono carichissimo Sono carichissimo Invece di fare grigliate cose di Pasquetta Noi ricordiamo oggi ragazzi È Pasquetta E non era prevista questa cosa Cioè io sabato Stavo commentando delle partite E Milone mi ha accenduto questo big match Sono felicissimo Lo ringrazio, grande Alex E noi siamo contenti L'ho chiamato anche stavolta, l'ho chiamato l'ultimo Assolutamente sì Mi ha messo in difficoltà Però io gli ho detto Ringrazierò Per sempre il grande Alex Milone Perché questo sarà un partitone E non possiamo mancare neanche per un milione L'ho chiuso bene L'ho chiuso bene Allora, momento cultura Sì Fede Chi è che pronunciò la famosa frase Cartago di Lenda Est? Catone Ma lei è bene? Come fa a conoscere Catone il censore? Perché ho fatto il classico Alcune cose ti rimangono dentro Sì, e sappiamo bene cosa che è rimasto dentro Ci siamo Ancora una volta Tre minuti, perfetto Missione compiuta, siamo qui Adesso bisogna partire 17.55 Sì, solo calcio Forza Sì Dai, dai, dai Non c'è più tempo per scherzare È il momento di cominciare a fare sul serio Play-off scudetto della Super League Non si poteva che partire dalla casa dei campioni in carica E l'avversaria non poteva che essere la pretendente al trono Dall'MCH Arena è Mitilland Brondi Atto terzo Un saluto da Federico Marconi E Gianluca Benedetti Mabil sul secondo palo verso Sviacenco La torre per Cava Che mette dentro Il gol dell'1-0 Il difensore centrale che si reinventa Assistman La punta Che fa gol Occhio che qui si apre il Mitilland Paulinho si dimentica mensà Pallone al centro per Pavlovich Poi Ure Prende la traversa La palla non è entrata clamorosamente È entrata? No c'è fallo in attacco Traversa clamorosa di Ure Palla gol gigantesca per il Lebronbi Vediamo se per oggi il tempo c'è 20 secondi in ripartenza Occhio a Rosted Che vuole smentirci Davanti Pavlovich Occhio al contatto falloso Si gioca comunque Sta arrivando Sliman Verticale Non filtra il pallone Ma raccoglie Borkait Altri 7 secondi al 95esimo Lindstrom Guarda dentro Crossa deviazione Occhio al pallone verso Ure Che la lascia a mensà Poi c'è Rosted Traversa Non è possibile Traversa del Brondi È la seconda Proprio Sulla sirena Non è possibile Incredibile Finale di partita Incredibile davvero Esulta ancora Priske Come due mesi fa Prova di forza Della Mitilland Tre vittorie Su tre In stagione contro Il Brondi Questa però Ha un sapore Leggermente più dolce Leggermente più pesante Perché è un nuovo Sorpasso in classifica Ma stavolta Nei playoff È vero Che il Brondi Avrà altre nove giornate Tra cui il ritorno Della Brondi Stadion Della nove maggio Però Il Mitilland Onestamente Ha dimostrato E sta dimostrando Di avere qualcosa in più Scusa Signore Come stavo Io non ci vedo Che cosa devo fare Che cosa devo fare Per vedere il Brondi Anzicotevo Perché qua a me D'abbè umato Devi mettere la palla dentro Coglione Ragazzi è finita così La nostra prima Telecronaca di questo video Perché oggi è lunedì E' pasquetta Ma noi torniamo qui Nel weekend Quindi magicamente Adesso io faccio così Con la mano E ci veniamo nel weekend Guardate come bastano rapidamente Cinque giorni Cinque come la mano Tre Due Uno Ciao Buongiorno Allora oggi come leggete Perché io sono bravo A montare i video E ci scrivo anche le date E' sabato Dieci aprile tra l'altro Giorno importante Perché il dieci aprile Come voi sapete E' successa questa cosa Che vi lascio più sopra Nelle schede Ma comunque Allora io sono in stazione termini E clamorosamente Oggi sono arrivato prima Di Rudy Sladan Che tra l'altro Si è dimenticato a casa mia L'ultima volta Che è stato da me Il suo portafoglio E ieri gli era comandato Mi ha detto Portalo 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 Però siccome lui Ancora non è arrivato Noi adesso gli faremo credere Che non abbiamo Il suo portafoglio Ehm Non sarà semplice Perché A quest'ora Non so recitare Però vediamo cosa esce Tanto lo aspettiamo Con la sobrietà di sempre Con la sobrietà che lo contraddistingue Con la sobrietà che gli appartiene Dattore Buongiorno Buongiorno Come stai? Buongiorno Buongiorno Sto bene Anche se Questa energia Alle 7.10 di mattina Dove la trovi? Trovo che mi sono svegliato alle 5 Quindi ormai Siamo in due Secondo pugnetto Andiamo a fare colazione Dai Forse abbiamo tempo Andiamo Che figa Senti Non credo che abbiamo tempo Dici che non abbiamo tempo No Allora prendiamo il cornetto Andiamo Andiamo a quello là Sì C'è uno qua sotto Che è più vicino Vabbè Andiamo là Tutto sullo stesso piano Ma Questo Secondo me è quello No Me lo controllate Cioè me lo controllate Andate in giro No aspetta Sì Mi sa che ho fatto il danno Ma No sì Portafoglio tuo Dai No non sto a giocare Porta Non ce l'ho L'ho lasciato sulla scrivania Ma sei il cane No sono un coglione Non sono un cane Ma te l'ho detto pure ieri Ma me l'ero messo sulla scrivania No te l'ho detto Mettilo dentro in bolsa Sono un coglione Sono un coglione Vieni qua Non pensavo che ci cascasse Non pensavo Perché l'ho fatta molto naturale Con la telecamera Nascosta Ho detto se lo riprendo Capisce Che cane Ce l'abbiamo fatta ragazzi Grazie per il supporto Grazie per la fiducia Dedico questo Oscar Per il premio No L'Oscar Aten Dedico questo Oscar Per il film Per il ruolo Miglior protagonista Al Al cui presente Rudy Slatan E a Snoopy Che è a casa E mi supporta sempre Ebbene sì Noi siamo in redazione Come sempre Ogni volta che si arriva in redazione C'è Gabriele Schiavi Ciao ragazzi Ben trovati Sempre molto carico E Mentre io sto Ripassando per Il mio sassuolo Cagliari Qui Stiamo già capendo Cosa ci spetta domani Che abbiamo lo svedese E al tempo stesso Signori Appena uscita la carriera Che vi lascio qui sopra Nelle schede Quindi dovete assolutamente Andare a vedere l'episodio Che qua ci stiamo gustando In Premiere Quindi tutti live Poi naturalmente Resta il video normale Sei mesi fa Il pirotecnico 4 a 3 di Asseminello Ha indirizzato La stagione di Cagliari E Sassuolo Ora solo 4 punti Dividono i nero-verdi Dal terzo posto Gli stessi Che separano i rosso-blu Dalla zona play-out Artioli Sul secondo palo C'è un contatto Poi sbuca Mattioli Salva tutto Un suo compagno Ma arriva lo stesso Il gol di Mercato Avanti il Sassuolo Al numero 11 Del secondo tempo Con il numero 11 Occhio alla mancino del 5 Sale anche Ciocci Perché adesso Soprattutto adesso Non c'è nulla da difendere Non ci sarà più tempo dopo La rincorsa di Bruno Conti Pallone a cercare Una deviazione C'è anche Ciocci Che si coordina Che cosa ha provato Ciocci Che cosa ha provato Ciocci E come ha risposto Vitale E finisce qui Dopo 6 minuti Di recupero Un finale spettacolare Di una partita bloccata Che si risolve Grazie a Mercati E grazie a Vitale Ragazzi Sforbiciata del portiere Al 95 Ma immaginate Se avesse segnato Cioè Non voglio pensarci Anzi un po' Sto arrosicando io Quanto lui almeno Perché poi quando ci sono gesti così Vanno per forza di cose Ricompensati Però la partita è finita 1-0 Io l'ho presa con filosofia dopo Voi comunque siete tutti pazzi Siete tutti pazzi Cioè Se segna Il portiere Al 95 Inrovesciata Io mi sento male Non che l'abbia presa comunque con sobrietà Anche la parata dell'altro portiere Pallone a cercare Una deviazione C'è anche Ciocci Che si coordina Ragazzi Sarebbe stato il gol dell'anno Queste cose perché succedono solo quando commento io Cioè sono contentissimo Fosse così tutte le partite Mamma mia Mamma mia Spettacolo Fatto sta che dopo 4 camomille Mi sono calmato Sono tornato normale E mi sono preparato per il live serale Era la notte del classico Era la notte di Udinese Torino in Serie A Io non ho commentato ognuna nell'altra Perché mi sono concentrato sulla Ligan C'era una sfida molto interessante Della Montpellier e Marsiglia 3-3 risultato finale Ma da segnalare un episodio divertente Volevo parlare con Marconi Perché a me serve Sì buonasera Il 2 del Marsiglia Ok Ne abbiamo chance Beh ne abbiamo chance Perché nel calcio può succedere di tutto Però i numeri Come tu ben sai Prof Non danno ragione al Marsiglia Che come citavo in precedenza Non vince in trasferta In campionato Dall'inizio Delle mese di dicembre Quindi è complicato Anche per come si è messa la partita Il Montpellier Sta facendo bene Ma a differenza del Real Madrid Non sta sfruttando Il proprio momento migliore Quindi Non escludo nulla Agia Agia Inventati qualcosa Ti prego Inventati qualcosa Sennò diventa brutta Quella situazione Va bene vedremo La mattina successiva E quindi vi parlo di domenica Chiaramente il weekend Era ancora nel vivo Perché io avrei dovuto fare Ancora due telecronache La mattina Torino Spal Sul canale 60 Del Digitale Terrestre Assieme a Kevin Coe Che saluto Perché so che sta guardando questo video Anche perché glielo ho mandato io E l'ho minacciato O te lo guardi O te lo guardi Quindi lo sta guardando Ciao Kevin E poi soprattutto Avrei dovuto fare Un'altra telecronaca Nel pomeriggio Del campionato svedese Assieme a Rudy Slatan A prima giornata E poi alle 18 Sarei dovuto andare in live Stiamo registrando Buongiorno E buona domenica a tutti Siamo in cabina cometta Con Kevin Coe Buongiorno Kevin Ciao ragazzi Buongiorno a tutti Che cosa ti aspetti Da questa partita Perché sono due squadre In difficoltà Segnano poco Subiscono poco La squadra viene da uno 0 a 0 Con l'Inter Ma? Siamo a domenica mattina Poi piove Ma? C'è un arbitro Che ha una statistica importante Esatto Quando arbitra lui Si segna tanto Cagliari Ascoli 5 a 0 Genoa Juve 2 a 2 Ci crediamo E beh non c'è due senza tre Poi ci sono Federico Marcoli E Kevin Coel con me Spettacolo garantito Ve la mettiamo noi L'anima di qua su questa partita Esatto Vediamo che succede Andiamo dentro con le immagini Accomunate da un periodo difficile Ma divise da classifica Ambizioni e storia Buongiorno dalla Bertolotti E benvenuti a Torino Spal Non aggancia il pallone Ellerson lo lascia a campagna Che guarda in mezzo Finta il cross Poi vuole il destro A giro deviato E il pallone in porta Avanti la spalla Con un po' di fortuna Al ventesimo Segna campagna Torino in 10 al 41esimo Per proteste O forse per qualcosa Di troppo detto all'arbitro Comunque sia Siamo lì E va fuori il fantasista Qui Kevin può cambiare molto 60 secondi Di recupero E finisce da primo tempo Torino 0 Qualcuno Decide di portare Il pallone all'arbitro Dai oh Partita bella viaggia Fessione io La dico subito Sì File primo tempo Kevin dai Sta andando bene Partita piacevole Non ci sono tante occasioni da gol Ma partita piacevole Più espulsi che occasioni Sì Purtroppo sì Finta Colin Scava Simonetta È uno schema Per l'inserimento di campagna Che calcia forte E calcia in porta Fa doppietta È 2 a 0 E fischia tre volte maggio Dopo un mese La spalla torna a vincere Batte 2 a 0 Il Torino Ci siamo divertiti È stata una partita piacevole Da raccontare E soprattutto Assieme a una seconda voce Esperta di campo Come Kevin Che insomma Ha giocato per tantissimi anni Anche a grandi livelli E quindi ci mancherebbe altro Il problema è che La mia telecamera però Non l'avevo io In quel momento lì Perché l'avevo lasciata Al buone a Rudy Slatan E quando lasci la telecamera A uno come Rudy Slatan Quando in redazione C'è anche un altro Mio amico Come Gabriele Rocchi Non sai mai Cosa può succedere Ma scusami Quale è la differenza Dalla camera caffè E questo? Ehm Che qui mi dà un certo caffè Sì perché vedo Non perdere i soldi E la camera però sì Guarda Ma lui che non perde Ok Perché? È perché è rotto Ma come fa essere rotto? Non funziona Ma perché? Perché non funziona? Ma perché? Voglio sapere perché È perché Tu e te gli stai 25 euro Eh sì Pisa prende? No Allora funziona Ah così È proprio così È bene Fammi del tè Zamasu 2 Non c'è più tè signore Cioè È vuoto Cioè Non c'è più tè Come sarebbe È vuoto È questo che volevi dire? Fammi del tè Zamasu 2 È vuoto Cioè Non c'è più tè Allora va e riempilo Fammi del tè Zamasu 2 Vi posso garantire che la clip dura 10 minuti eh Cioè loro per 10 minuti hanno detto Se volete l'integrale scrivetemi in direct Ma comunque spostiamoci e torniamo a parlare di cose serie Tra virgolette Perché? Perché non era finita qui ovviamente Vi avevo accennato quello che sarebbe dovuto essere poi il pomeriggio Ma ci sono state delle novità Novità anche normali mi viene da dire Perché? Perché questo è un mestiere E qui c'è un'altra parte aggiuntiva Che non avete ancora visto in questo format Gli imprevisti Tra virgolette Ma imprevisti che sono Torno a ripetere la normalità in questo campo qui Perché noi Vi parlo di giornalisti Teletronisti Viviamo d'eventi Raccontiamo l'evento sportivo E quindi se c'è una novità all'interno dell'evento sportivo Noi dobbiamo essere utili, flessibili e tranquilli Nel trovare una soluzione Alternativa Così è stato Perché è stata prima cancellata Poi semplicemente posticipata La partita di serie D Che avrebbe dovuto raccontare Orazio a comando Questo ha spostato un po' i piani Perché quella partita lì Ha fatto sì che lo svedese non si commentasse E io e il buon Rudy Slatan Ci siamo ritrovati a commentare un'altra partita Che si è giocata alle 18 E che vedeva di fronte Arus e Midilland E quindi sì Riparliamo di campionato danese È stata una grande fortuna questa Perché conosciamo bene il campionato Conosciamo molto bene il Midilland Conoscevamo un po' meno l'Arus Perché almeno quest'anno io non l'avevo mai commentato E quindi insomma un pochino si può soffrire in questi casi Perché c'è meno preparazione Hai preparato un'altra partita Però nel poco tempo Relativamente che avevamo pre-telecronaca Ci siamo messi sotto Abbiamo studiacchiato delle cose E poi siamo andati dentro Sperando di portare a casa un buon lavoro E il campo ci ha aiutato La sconfitta delle Brombi può disegnare scenari inattesi Il Midilland vuole vincere per andare in fuga L'Arus vuole vincere per rientrare in corsa Buon pomeriggio dalla Ceres Park Un saluto da parte di Federico Marconi E Gianluca Benedetti Ma Bill sul secondo palo a vuoto Kaba Poi arriva Unieka Proprio lui Sembrava poter uscire per infortunio Rimane in campo e fa 1-0 È calcio di rigore È calcio di rigore solare Var Calcio di rigore Parte Scholz Intuisce Skellinen Ma non basta Fa 2-0 Il difensore centrale Nilsen e Olsen Va forte Nilsen E segna Mortensen Dopo il tocco di Lossel Chi se non lui Per provare a riaprire il discorso A mezz'ora esatta dal novantesimo Sisto guarda Isaksen Lo manda nello spazio In mezzo c'è anche Brumado Arriva il cross E arriva il gol Che chiude tutto 3-1 Di Mikael Anderson Il Midilland va in fuga Che adesso riceve ancora E cerca di alzare la testa Metterla dentro Sta arrivando Evander Stop Destro E il Midilland Cala il poker Torna a segnare dopo l'infortunio Anche il brasiliano È la grandezza della rosa 4-1 per il Midilland 4 come i punti di distanza Sul Bromby secondo Il segnale Priske lo ha dato E così è andata signori Questa era anche la telecronaca Conclusiva del weekend E quindi di conseguenza del video Utile soprattutto al buon Rudy Slatan Perché la prossima settimana Ve lo anticipo Anche se non ci sarà il vlog Quindi seguitemi su Instagram Per rimanere aggiornati Io commenterò La Svenskan Che non ho commentato in questo weekend Quindi volo in Svezia Assieme a Silvano Pulga Che è un grande esperto Del campionato svedese Alle 15 di domenica Mentre alle 18 Il buon Rudy Slatan Per la prima volta Salirà a Sport Italia Non per fare telecronaca con me Ma sono contentissimo Con Alex Milone Commenteranno Brondi Arus Sapete il mio table per il Brondi E l'Arus L'abbiamo commentato questo weekend Quindi è una partita importante Sempre per il playoff scudetto Vediamo Che succede Per il momento vi ringrazio Lasciate un like Come sempre Per supportare questo format Se il video vi è piaciuto Scrivetemi nei commenti Qualcosa che Vorreste vedere in futuro Che non avete magari ancora visto Ci penso anch'io Poi vediamo Ma soprattutto Se siete arrivati a questo punto del video Commentate con Hashtag Ciocci Portiere che fa la roba scioccia Ragazzi Dalla roba Credi Ciao